Lettura del Vangelo secondo Luca In quel tempo, il Signore Gesù disse ai discepoli, come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot, mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva. Ben trovati e passia bene a tutti in questo giorno del Signore, quarta domenica dopo Pentecoste. Nel Vangelo di oggi Gesù ci ricorda quello che è successo nella storia della salvezza, Noè e Lot. Come gli abitanti, i contemporanei, i compaesani di Noè mangiassero, bevessero, prendessero moglie e marito, poi quelli di Lot lavoravano, si affaticavano sotto il sole e tutto questo poi naufragò nel cosiddetto diluvio universale. Che cosa facevano di male queste persone agi, queste persone? Era normale, è normale mangiare, bere, dormire, sposarsi, impegnarsi nella vita per seminare, per lavorare, per costruirsi una casa appropriata. Tutto questo è normale. Il problema di allora, che è anche un problema per noi oggi, è questo. Siamo troppo affacendati, indaffarati, impegnati a mangiare, a bere, a dormire, cioè a soddisfare quelli che sono i bisogni primari della persona. Ma dire che i bisogni primari vanno soddisfatti non significa, non coincide con l'affermare che esistono solo questi bisogni. Cioè l'uomo è altro, ci sono degli altri bisogni e se noi scrutiamo dentro del nostro cuore troviamo dei desideri infiniti. L'errore che qui ricorda Gesù Cristo è quello di salvare la propria vita da soli. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi la perderà per causa mia la ritroverà. È la chiusura lapidaria del Vangelo odierno, dopo aver ricordato gli episodi di Lot e di Noè. Cioè l'errore nostro è quello di procedere nella vita senza fare riferimento al bene assoluto della nostra vita, che non può essere che Dio. Perché se noi siamo attenti, non siamo così distratti, non siamo troppo distratti e superficiali, ci accorgiamo che tutti questi beni materiali che assommiamo e accumuliamo non rendono il nostro cuore felice, non ci danno i doni dello Spirito come ci ricorda Paolo, amore, pace, gioia eccetera eccetera. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare attenti a non vivere una vita come se Dio non ci fosse. Questo è un rischio che oggi corriamo più che mai, perché il senso della religiosità, del riferimento a qualcuno, a qualcosa di superiore, ai beni e ai valori del Vangelo, a Gesù Cristo, a Dio, questo riferimento viene sempre meno. Facciamo fatica oggi, magari preghiamo all'inizio, alla fine della giornata in un modo distratto e frattoloso, magari riusciamo a ricavare quell'ora la domenica per andare in chiesa a partecipare all'Eucarestia, ma tutto questo in un ritmo di vita frenetico e superficiale ci ritroviamo molte volte a parlare per ore di banalità oppure corriamo dietro ai vari impegni i quali ci affaticano, ci pesano, sono gravosi, ci rendono una vita che non è vita. È la raccomandazione che ha fatto il Papa in questi ultimi giorni, nei giorni scorsi, alle famiglie. Cioè vivendo una vita, i genitori, papà e mamma, vivendo una vita di corsa rischiano di dimenticarsi dei figli. Ma questo che vita è? E allora bisogna riprendere con coraggio e con fede le redini della nostra esistenza. Dobbiamo occuparci del mangiare, del bere, del dormire, del lavorare, del costruirsi anche una posizione, una casa, un ambiente confortevole, senza però dimenticare il riferimento a Dio, le relazioni con gli altri a partire dai nostri cari figli, fratelli, sorelle e il riferimento agli altri in senso generale, a coloro che incrociamo per le strade dei sentieri della vita e che magari hanno bisogno di noi. Ecco allora il Vangelo odierno. Noè diventa per noi un patriarca, un segno, un modello di fede perché in una generazione nella quale si ritrovava a vivere, la quale pensava unicamente a mangiare bene e dormire a sposarsi, Noè fa riferimento a Dio, costruisce un'arca, una grande barca con la derisione e lo scherno di tutti i suoi compaesani, ma lui obbedisce a Dio e allora molte volte il vivere la fede oggi ci mette in questa situazione così molto difficile, cioè ci mette nella situazione di essere ridicolizzati, di essere emarginati perché colui che procede con lo stile, con una mentalità cristiana rischia di essere perdente, di non essere preso in considerazione, ma obbedire a Dio salva sempre, anche se al momento sembra essere dei perdenti. Noi se consegniamo la nostra vita a Dio, se non vogliamo ritenerla e salvarla per perderla, ci avverte Gesù, se noi consegniamo la nostra vita a Gesù Cristo, la ritroveremo, magari saremo scherniti dagli altri, gli altri si prenderanno gioco di noi, ci derideranno, ma sappiamo alla fine, sappiamo che saremo vincenti. Pace bene amici, a risentirci e alla prossima domenica.